Domani in tutta Italia si celebra la giornata nazionale dei volontari ospedalieri dell'Avo, l'associazione volontari ospedalieri che quotidianamente operano per portare conforto e dare supporto a chi, trovandosi ricoverati in una struttura sanitaria, abbia bisogno di sostegno morale. Anche l'Avo di Nuoro domani sarà in piazza con alcune postazioni informative per far conoscere ai cittadini la propria attività e trovare nuovi volontari in vista del corso di formazione in programma a gennaio. L'Avo Nuoro sarà presente ai giardini di piazza Vittorio Emanuele, nella sala d'attesa dell'ospedale San Francesco e nel centro commerciale di Biscollai. L'associazione presieduta da Maria Antonietta Lai, a Nuoro conta 70 volontari. Sabato 25 ci sarà una manifestazione proprio per pubblicizzare l'associazione volontari ospedalieri per dare visibilità non solo a Nuoro ma in tutta l'Italia. Diciamo che a Nuoro siamo nati nel 2010 e nel 2012 ci siamo costituiti associazione. Siamo già tre anni che operiamo all'interno dell'ospedale. Abbiamo iniziato con 10-12 volontari e oggi siamo già 70 grazie ai tre corsi che abbiamo fatto in questi tre anni. Noi siamo presenti all'interno dell'ospedale, in sei reparti. Andiamo per aiutare soprattutto e per umanizzare l'ospedale. Portiamo una parola di conforto ai pazienti e soprattutto ascolto perché hanno bisogno di comunicare perché tante volte sono soli, trascorrono un'intera giornata da soli. C'è veramente bisogno di una persona amica che porti loro una parola di conforto.